Ehi so Rattis, oggi abbiamo qui per voi Fiat Panda, motore 1000 con 70 cavalli di potenza. La possiamo trovare oggi nell'allestimento City Life in questa fantastic colorazione grigio moda. Possiamo già visualizzare sulla parte laterale della vettura questo calotte del raggio di 15. Spostandoci poi nella parte posteriore possiamo ritrovare un bagagliaio molto molto comodo per un uso quotidiano. Spostandoci poi nella parte posteriore troviamo cristalli manuali, interni internamente in tessuto B-color e doppio attacco ISOFIX per i bambini. Nella parte anteriore possiamo trovare al volante comodissimi i pratici comandi per le chiamate, la radio dalla quale possiamo gestire direttamente la musica e questo praticissimo porta smartphone con una presa USB. Abbiamo poi ovviamente cambio manuale, freno e stazionamento manuale. L'auto è stata matricolata a marzo 2022, è un benzina elettrico con 17.200 km. Vieni a visionare queste e altre Fiat Panda sul nostro sito Rampix.com